Parta proprio dai partiti, cioè parta da un nome, se faranno questo nome, quindi da esplorare la possibilità del conteter, non di mettere lì un programma, anche perché sul programma, era scritto nell'e-news di Renzi, ma tutto sommato anche le parole di Nardella fanno capire che ho l'analisi per cui se uno parte dal programma poi dopo i nodi forse sono ancora più forti, guardiamo il mess. È chiaro che Mattarella se può rimettere su il governo che è caduto lo fa, nessuno potrebbe accusarlo di essere parziale se fa una cosa del genere, perché il governo è caduto su una incompatibilità tra il Presidente del Consiglio e uno dei membri della sua alleanza, se questa incompatibilità si risolve il governo si rimette in piedi e si va avanti. Si sbaglierebbe però, secondo me, a pensare che Mattarella non tenga conto delle posizioni del centrodestra, che è una posizione, secondo me, ascoltando Salvini, è una posizione articolata, cioè loro sanno che se chiedono le elezioni domani mattina, elezioni che quasi certamente vincerebbero, se chiedono le elezioni domani mattina è difficile ottenerle perché c'è la pandemia, perché c'è il recovery fund, perderemmo gli aiuti, 209 miliardi non li rivedremo mai più, invece... Se tu invece dici, guarda, noi siamo disponibili ad accettare un governo di unità nazionale incaricato di fare due, tre, quattro cose urgenti, appunto, i vaccini, un piano serio per il recovery fund, purché subito dopo si vada le elezioni. Attenzione, di questa posizione qui, Mattarella, secondo me, terrà molto conto, per varie ragioni. Innanzitutto perché la posizione è di metà del Parlamento, poi perché questo Parlamento ha votato una legge che prevede il taglio dei parlamentari, poi perché i cittadini hanno confermato questa legge a larga maggioranza e poi perché nelle regioni italiane ormai c'è una larghissima maggioranza di centrodestra. Questi fattori qui, secondo me, sono tutti ammucchiati sul tavolo del Presidente della Repubblica ed è escluso che lui non ne tenga conto. Quindi, se la maggioranza riesce a rimettersi in piedi, vanno avanti, ma se non ci riesce, Mattarella andrà a questa seconda ipotesi. Il che prevede, secondo me, un governo tecnico-istituzionale che sta fino a Pasqua e poi a Pasqua lo scioglimento delle Camere. E vado da Nardella che vedo che non è d'accordo. Neanche io. Neanche Mario Lavia.